Il deputato di 5 Stelle, Nardo Marino, relatore del provvedimento in Commissione Trasporti del nuovo decreto sulla nautica da Diporto, incontra gli operatori del settore per illustrare lo schema della nuova normativa. L'appuntamento è fissato per le 18 di sabato 5 ottobre all'Hotel Hilton. Progettare un percorso di crescita della nautica da Diporto per la Sardegna sarà fondamentale e le audizioni in Commissione Trasporti per apportare modifiche al decreto 229 si terranno fino al 13 agosto del prossimo anno. L'obiettivo dell'incontro è infatti quello di raccogliere le istanze di tutti, analizzare le criticità e le possibili soluzioni. Il lavoro condotto in questi mesi concerne interventi di semplificazione amministrativa nell'ottica dell'introduzione dello sportello telematico del tipo artista per uno snellimento efficace della burocrazia, la disciplina dei droni, la possibilità di introdurre l'uso commerciale delle unità da Diporto con la somministrazione di cibo e bevande e l'attività di commercio al dettaglio delle unità da Diporto. Il cosiddetto noleggio a cabine. Nell'incontro di sabato si parlerà anche di sicurezza e della disciplina delle scuole nautiche nei centri di istruzione per la nautica.